Senti inferiore del cazzo, io non insulto il mio paese, io insulto te, sei un inferiore del cazzo Mauro ma che cazzo sei? Cosa mi rappresenti? Vai a tomar porculo, muori, schiatta, vai a peraccinarti, muori, pezzo di merda, ciao Ciao morto di fame, ciao morto di fame, io la melanzana me la pago, me la compro e la mangio, guarda finita Tu invece sei un morto di fame, sei un morto di fame, forse sei anche Parenzo, non lo so perché non c'hai un nome Non si capisce chi cazzo sei, continui, ti brucia il culo perché io sono Dio e te sei una merda, io sono un Dio e te sei una merda Ciao metrosessuale del cazzo, Mauro, Mauro, ho visto il tuo nome, Mauro, perché non mi fai almeno un video? Fallo come faccio io, facci vedere la tua faccia da cazzo, facci vedere come sei analfabeta, chissà che lingua strana parli Faccelo vedere, analfabeta, metrosessuale, rotto in culo, faccelo vedere O ti caghi, hai paura, perché non metti la tua faccia? Perché non metti la tua voce? Perché sei un inferiore, lo sai anche te che sei un inferiore Ti vergogni perché sei un inferiore e ti vergogni di metter la faccia inferiore Sai che la lista, la guarda tra me e quel scoglione di Greg che sono almeno, non sa almeno chi è Chi? Greg, quello con cui ti ha messo il tuo telefono in giro per i testi della tua strada Non so chi sia, non so chi sia No, no, lo sai che è, hai fatto delle indicazioni per radio che è a Tenerife Non so Lo sai benissimo Non so Che sei l'editatore di queste robe qua? Ma figuriamoci Io non so, io non ho mai fatto un video sugli miei perché per me non rappresenta il nulla Ma chi? E' un rifiore salento Chi per te fa sto Greg? Perché fa un micro-viglia? Ma no, no, ma non lo so, non è vero, non lo so Ma c'è il tuo zampino sicuro, c'è il tuo zampino Ma non lo conosco Se non c'è il tuo che fa quello di Frosciarenzo o l'altro ancora mervolardo Ma comunque a me queste cose non mi toccano perché Ma tu sei un coglione baro Io nulla Ma tu sei solo un coglione Ma tu sei semplicemente un coglione No, sei tu il coglione, non io Perché io so quello che dico e quello che faccio E queste cose qua Ma a te c'è qualcuno Mi stanno sui coglioni Perché non mi apportengono Ma tu non hai un cazzo da fare tutto il giorno Questo è il problema Allora, mentre quando stavamo qua a me fagliare i coglioni Perché io prima di tutto voglio meglio il progetto Ma tu, il problema tuo è che non hai un cazzo da fare tutto il giorno No, io ho altre cose da fare Ma non hai niente da fare Io ho altre cose da fare delle cause Per chi so io A due persone Ma se non hai i poldi neanche per te Ma se non hai i poldi neanche per te Ma c'è il gratuito padrocino Si dimentichi di quello C'è il gratuito padrocino Ma a te gli avvocati che fanno il gratuito padrocino Quando ti vengono ti pigliano a calci nel culo No, 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 fidati, che io ho sempre vinto, quando però sto avendo avvocato serio, perché quando ho fatto la causa alla mia moglie, ho vinto io, sono stato l'unico maestro ad avere l'assegno, la mia moglie, la mia moglie, io l'assegno per tre anni, grazie alla mia avvocato. Ma che vuoi da me adesso? Adesso che vuoi che sto lavorando? Che cosa vuoi? No, ma se tu hai visto queste paide, che a me non mi appartengono. Ma secondo te, io, ha visto qualcuno, a me io non so tempo da perdere. Secondo te, io mi metto a fare la guerra a uno come Greg, che è scappato dall'Italia, perché se sono in Italia lo blindano. Lo blindano perché io so. Ma non lo so, non mi interessa a me, questo qua non lo conosco. Ma no, ti hai litigato più di una volta in radio perché ha messo il tuo numero di telefono in giro per i testi dell'articolo. Eh vabbè, l'ho denunciato. Allora, ascolta, quello lì, quando facevi il carottiere meccanico, aveva una piccola ufficina. Vabbè, ho capito, ho capito, che vuoi da me? No, lui si è intestato di vendere le macchine supercar, cosa ha fatto? Ho preso una macchina rubata. Vabbè, dunque? Mi ha trasferito il numero di letteraio di quella in Italia, di quella rubata. E allora, quando l'hanno sgamato, è dovuto scappare via, se no noi cercheranno. Allora, c'è da fare adesso, c'è da uso. Però, ma questa roba qua, non me ne fai perché sguardo mi cazzo. Non me ne fai il cazzo. No, no, mi prenderò il foglio quando fai così, eh. Vabbè, ma indaglierò, darò a sapere, darò a sapere. Andai, 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 andai. Oh, anche lo sappiamo che sei stato te a iniziare tutta, a fare, ma tanto io non ci casco nei suoi trenelli. Cosa pensavi? No, cosa... Quella novità di Greg, quelle robe che tu gli hai detto di fare, di dire, probabilmente perché soffri di non avere visibilità. E non tu gli hai dato atto, attacca Mauro Damasco, eh. Se stronzate, se pensi che io ci caschi, secondo te io dedico un mio video a un coglione del genere che è scappato dall'Italia per non andare in galera. Io non ho capito niente di quello che dico. Allora, se Greg fa un video contro di me, qualcheduno lo ha insatto perché io... Ma non l'ha fatto contro di te. No? Ma se ce l'ho mandato su WhatsApp. Ma quello non c'entra un cazzo. Come no? Ma perché deve assaccare me? Che io non lo cago nemmeno di striccio. Qualcheduno, qualche d'uno, qualche d'uno, qualche d'uno gli ha soffiato nelle orecchie. E quel qualche d'uno può essere saltato soltanto te, o margolato, o meglio ancora Parenzo, perché non ha digerito gli attacchi che gli faccio. Perché lui... Ma sei un vecchio pazzo. No, no, non sei un vecchio pazzo. È uno che mi fa il culo mediaticamente. Te l'ho detto io, se torno in tv, mi sverniccio. Perché a me sono i miei fan che mi cercano. E voi invece ci andate solo per raccomandazione. Non hai mai chiamato quello? Eh? Ma non siete che non vi chiesto. Voi solo per paraculate ci andate in tv. I vostri fan non vi chiedono di andare in tv. A me invece me l'hanno detto un miliardo di volte. Torno in tv, torno in tv. Ciao, ciao, ciao. Se c'è nullità. Sì, ok. Sì, c'è nullità che in fronte a me. C'è poco da fare. Certo, non c'è dubbio. Come dici tu? Eh beh, perché non è vero? Non è vero? Cioè, ti fai raccomandare Daniele? Ti fai raccomandare Daniele per andare in tv? Ma si mette con C'Andresi che hai le pendenze. Hai ancora pendenze con Mediaset? Ma non sai nemmeno parlare. Non riesci nemmeno a parlare. Allora, tu hai ancora delle pendenze con Mediaset? Perché non hai rispettato il contrario? Ma ci vai? Perché tu lecchando il culo gli negri se non ti chiamano non fanno la pubblicità? Ok?